Un grande fermento si registra anche a Piedimonte Matese, così come in altri comuni dell'Alto Casertano, in vista delle prossime comunali dell'11 giugno. Sei al momento gli schieramenti che si vanno delineando, anche se non si esclude che più di uno potrebbe perdersi per strada. I candidati a sindaco potrebbero essere, usiamo rigorosamente il condizionale, Luigi Di Lorenzo, Gianfrancesco D'Andrea, Fabio Civitillo, Ancelo Lantino, Attilio Costarella che correrà con il simbolo del PD e Carlo Grillo che abbiamo incontrato e con il quale abbiamo parlato a lungo di programma elettorale e dei candidati in vista della sua corsa alla fascia tricolore. Allora, Avvocato, questa volta sembra la volta buona. Caro Lorenzo, finalmente è la volta buona dopo tanti tentativi, tanti inviti e tante rinunce da parte mia. Questa volta l'ho deciso, l'ho deciso da solo, non ho aspettato nessuno che me lo chiedesse o mi invitasse perché vivo a Piedimonte, sto in mezzo alla gente, nelle strade e quindi vedo che Piedimonte sta morendo e quindi bisogna fare qualcosa e bisogna farlo subito. Quindi diciamo che mi ha bruciato la seconda domanda, sul perché si è candidato. Il perché è questo qua e penso che oltre le idee e le progettualità ci voglia anche il lavoro, la pratica e bisogna agire tempestivamente perché molte cose vanno fatte in fretta e non è possibile aspettare oltre. A che punto siamo con la lista? La lista è completa nel senso che abbiamo tante candidature, quindi dovremmo contenerle, dovremmo limare i nominativi e mi fa piacere che nella lista ci sono tantissime donne, io credo molto nelle donne e le donne sono sicuramente determinate, più determinate di noi uomini, hanno un'esperienza sia al Consiglio dell'Ordine con le mie consigliere sia nello studio dove come ben sai sono tutte donne tranne io e mio figlio. Volevo chiederle questo, a proposito delle donne, lei sa che si parla molto di violenza sulle donne, Piedimonte probabilmente vive anche questa situazione anche se non ci sono stati casi di cronaca, però ci sono molte cose che non vengono nemmeno denunciate. Ecco, a livello comunale, eventualmente una sua vittoria elettrata, che cosa si potrebbe fare? Sicuramente si può fare e si deve fare qualcosa nella considerazione che non rientra nelle competenze di un sindaco, quello del tema della violenza di genere, quello della sicurezza e anche quello della violenza sulle donne. È un tema attualissimo che per fortuna lambisce soltanto Piedimonte perché non sento che ci siano dei casi molto gravi in relazione a questa problematica. Posso dire che non più tardi di un mese fa, come Presidente del Consiglio dell'Ordine, unitamente alla Procura di Santa Maria, dottoressa Troncone, che è il procuratore che batte molto su questa... Molto molto nota da queste parti. Sì, sì, sicuramente è molto determinata. È una donna e quindi come tutte le donne è molto determinata anche nell'affrontare questo problema che abbiamo affrontato con il questore, con il comandante provinciale dei Carabinieri, con i dirigenti dell'Asl, con tutte le istituzioni che potessero dare un apporto. Quindi si è stipulato un protocollo d'intesa su come affrontare nel modo migliore questo problema e probabilmente questo protocollo può essere adottato anche dal comune che nel suo piccolo può ribadire questo protocollo con la Procura di nuovo e con le forze di polizia locali. Sicuramente lei non mi dirà nemmeno sotto tortura i nomi dei candidati, ma almeno un identikit, chi sono? Ma i candidati sono persone della società civile di Piedimonte e la lista sarà composta da un mix di professionalità, di visibilità, di bella visibilità e anche di portatori di voti perché a chi io sente le mie parole quando dico che sono destinato a fare qualcosa, sono convinto di fare qualcosa per Piedimonte, anche non vincendo, tutti mi dicono bisogna vincere per fare qualcosa, prima bisogna vincere. Quindi per vincere occorrono anche i voti. Si parla di sei liste, insomma un poco troppo. Volevo chiederle questo. Ecco, la domanda secca. Perché dovrebbero votare lei? Io non dico perché dovrebbero votare me, ma voglio dire che il mio punto di partenza, oltre a quello di questa convinzione personale suffragata soltanto dai miei amici storici più cari, la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiedere la cortesia agli amici Angelo Landino, Luigi Lorenzo e Gianfrancesco D'Andrea di venire un attimo qui da me per parlare, proprio per dire facciamo fronte comune, mettiamoci tutti insieme perché insieme siamo fortissimi ma soprattutto perché diamo un segnale forte alla gente che vuole un gruppo di persone unite con esse che affrontano i gravissimi problemi che affliggono pieni voti. Purtroppo al momento questo invito non è stato accolto, io spero, c'è ancora tempo, spero che lo sia. Ieri sera ho incontrato il gruppo di D'Andrea che mi ha invitato da loro e abbiamo avuto un bellissimo scambio di idee di progettualità, anche se probabilmente, probabilmente dico perché questo incontro seguirà, rimarrà in loro un progetto di idee e quindi un movimento che però probabilmente sarà vicino a qualcuno, io spero a noi, perché abbiamo visto di avere progettualità, idee comuni. L'ultima domanda, più che una domanda, è un invito. In pochissimi secondi se vuole inviare un messaggio ai suoi elettori, ai suoi concittadini. Io il messaggio che invio è quello che sono molto determinato in questa impresa che considero ardua e che mi carica positivamente di adrenalina perché è una grossa responsabilità. e quindi l'invito è quello di starmi tutti vicini perché penso che i problemi così gravi vadano affrontati tutti insieme. Per cui se avrò la fortuna di vincere questa competizione elettorale, di essere eletto sindaco, coinvolgerò tutti coloro che vorranno dare la mano, opposizioni comprese.